C'è sicuramente un po' di rammarico per il risultato, però l'impressione è che anche oggi l'Inter abbia fatto un passo in avanti al punto di vista del carattere e della personalità. C'è stato bisogno di un gol, di un euro-gold di Lorenzo negli ultimissimi minuti di gioco per riuscire a battere la sua Inter che ha giocato in dieci praticamente per tutto il secondo tempo. Sì, la squadra ha fatto una gara di carattere. Insomma, con il campione d'Italia si è rimasto in dieci al 41esimo. Abbiamo commesso un'ingenuità che abbiamo pagato, però nello stesso tempo la squadra è stata viva, organizzata, determinata. Chiaramente una volta raggiunto il pareggio poi purtroppo abbiamo preso il 2-1 di Di Lorenzo che chiaramente è un euro-gold e per questo c'è tanto rammarico perché perdere non ci piace. Comunque da pensare che una partita del genere in altri tempi sarebbe finita molto peggio invece questa squadra davvero sembra avere un atteggiamento, un carattere da top team. Sì, sì perché Napoli è una squadra di qualità organizzata che gioca molto bene a calcio però abbiamo ribattuto colpo su colpo con un'inferiorità numerica, abbiamo speso tanto adesso dovremmo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali perché fra due giorni e mezzo avremo una finale molto molto importante. Ecco, a proposito di questo la mia ultima domanda è relativa proprio alla finale. Lei che è un esperto di finale di Coppa Italia, come si prepara a una gara del genere contro una squadra che ha una voglia matta di portare finalmente un trofeo a casa come la Fiorentina? Troveremo una squadra organizzata in salute che viene da una serie di risultati molto molto positivi hanno centrato una finale europea come la Roma e come l'Inter bravi complimenti sappiamo che troveremo una squadra in forma però cercheremo di organizzare una partita arrivare a mercoledì nel migliore dei modi. Grazie a voi. Grazie a voi